La chiesa di Maria S.S. del Soccorso o Duomo, chiamata anche chiesa madre o matrice, si trova in piazza Don Minzoni e risale al XII secolo. Fondata nel 1108 da Giulietta, Giuditta, la Normanna, figlia del conte Ruggero al centro dell'antico quartiere Ruccera, il suo rifacimento è stato eseguito nel 1656 su progetto di Michele Blasco dedicando la chiesa a Santa Maria del Soccorso, prima di allora la basilica era dedicata a Santa Maria Maddalena. La chiesa a tre ampie navate con monumentali archi in stile normanno e colonne ioniche. La facciata non è stata completata e mostra delle colonne e dei portali ad arco curve. Completano la decorazione della facciata tre sculture di Gian Domenico e Antonino Gaggini.